Buonasera dalla redazione di Canale 3, ecco i principali fatti del giorno, Siena accoglie la troupe di Netflix, la città sta diventando in queste ore il set del film d'azione Six Underground di Michael Bay, in servizio. Ci saranno alcuni scorci di Siena nel prossimo film prodotto da Netflix, da ieri la troupe del film Six Underground è impegnata in alcuni punti della città di Siena dove verranno girate nei prossimi giorni scene del thriller più costoso della produzione Netflix, si parla di oltre 150 milioni di dollari. A Siena purtroppo non vedremo il protagonista del film Ryan Reynolds, ma solo le controfigure e gli stuntman. Da oggi fino a sabato i senesi avranno qualche disagio perché sia parcheggi che alcuni veicoli e piazze saranno interdetti al traffico di mezzi e persone. Piazza del Campo ad esempio sarà blindata domani, 5 settembre, da Palazzo Pubblico al vicolo di San Pietro, dalla mattina alle 8 alle 20, nessuno potrà circolare in quella zona. E sempre domani e anche giovedì invece le imprese si sposteranno in piazza Provenzano dalla mattina alle prime luci dell'alba fino alla sera alle 20. Qualche disagio che verrà comunque ricompensato dalla produzione americana che verserà nelle casse del comune di Siena 100 mila euro per il disturbo. Nel fine settimana la pubblica assistenza di Siena festeggerà i 125 anni dalla sua fondazione, un momento molto importante anche per fare una riflessione sul futuro di tutte le realtà del volontariato che stanno soffrendo un po' nel loro bilancio da quando non ci sono più i contributi della fondazione Montelepaschi di Siena. Con i contributi che arrivano dalla regione toscana voi riuscite a coprire a malapena il 50% di quelle che sono le spese dell'Associazione della pubblica assistenza. Ma quali sono allora in questo momento le attività a rischio? Dunque io ho detto quello che ci ristora la regione è circa il 50% delle spese sul sanitario, quindi il servizio di emergenza e il servizio ordinario, cioè dove si trasporta il paziente a una visita specialistica anziché un esame diagnostico. Il problema che noi ravvisiamo è questo, è che questo contributo non copre il servizio, non copre i costi del servizio, ma non è detto che noi per questo siamo in difficoltà a fare il servizio, perché per ora fortunatamente abbiamo alle spalle un sodalizio che ha altri introiti e sono quelli di aver messo a reddito la struttura e questo va dato atto a chi mi ha preceduto e ora stiamo facendo anche delle razionalizzazioni affinché questi contributi che provengono dagli affitto dei locali ai professionisti medici eccetera che operano qui dentro la pubblica assistenza, che possano continuare a fare il servizio e che si possa anche allargare la base di questi servizi che fanno i professionisti, in modo tale da avere un reddito che ci possa consentire di far quadrare il nostro bilancio. Questo è il punto fondamentale. Quindi non è a rischio nulla della pubblica assistenza dei suoi 125 anni di storia? In questo momento non è a rischio nulla, ma dobbiamo senza dubbio prendere atto che la situazione è cambiata rispetto a alcuni anni fa, quando il bilancio di questa associazione, come di tutte le altre associazioni, veniva fatto con un contributo determinante da parte della Fondazione Monte dei Paschi. Si spacciava per carabiniere e truffava gli anziani. Arrestata a Montalcino lo scorso aprile, ora arrivano le misure del giudice nei suoi confronti. Si fingeva carabiniere e sfruttando il secolare prestigio della benemerita, entrava nelle abitazioni degli anziani, raggirandoli con storie pietose, totalmente inventate e successive richieste di denaro a cui qualcuno purtroppo abboccava. Purtroppo per lui un pregiudicato napoletano, 38enne, si è imbattuto nei veri carabinieri. Nell'aprile scorso si era presentato a Montalcino, spacciandosi per carabiniere, aveva cercato di raggirare alcuni anziani con la solita tecnica dei figli in difficoltà e bisognosi di denaro. Immediatamente era stato bloccato dagli uomini della compagnia di Montalcino, che avevano ricostruito i suoi comportamenti truffaldini. Ora non potrà più nuoscere a nessuno. Il giudice ha infatti deciso per lui l'obbligo di permanenza a Pomigliano d'Arco, la sua località di origine, con divieto di allontanarsi dall'abitazione nell'arco notturno e con l'obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri. L'attività di truffatore con questi divieti diventirà per lui praticamente impossibile. Al via il percorso di ascolto della Fondazione MPS, dei soggetti che operano nell'ambito dei principali settori di intervento, il servizio. La Fondazione Monte dei Paschi conferma la sua volontà di porsi come luogo di raccordo con i principali soggetti istituzionali sulle varie istanze che il territorio esprime. E infatti proseguono su questa linea politica gli incontri di ascolto sul territorio. Il primo appuntamento è in programma domani, 5 settembre, con gli enti designanti, tra cui quindi il Comune di Siena. Nei giorni successivi, poi dall'11 al 13 settembre, seguiranno altre audizioni tematiche alle quali sono stati invitati soggetti che rappresentano le categorie sociali, economiche e del mondo della cultura. Durante le audizioni si svilupperà un dibattito in particolare su alcuni elementi come per esempio l'agri-food, la ricerca, lo sviluppo locale e il trasferimento tecnologico, con interventi mirati a promuovere il passaggio dei risultati dalla ricerca al mondo delle imprese. Tutti questi incontri fanno parte del complessivo percorso di stakeholder engagement intrapreso dalla Fondazione Monte dei Paschi per mettere insieme un metodo partecipativo che va dagli attuali momenti di confronto programmatico alla realizzazione di specifici tavoli di coprogettazione. Coloriamo l'estate è un programma di terapia dedicato ai bambini ricoverati in pediatria mirata a mitigare i disagi dei piccoli pazienti costretti in corsia. Il progetto, realizzato da due studentesse del servizio sociale, è stato accolto dall'unità operativa complessa della pediatria delle scotte. I bambini ricoverati al policlinico potranno cimentarsi con tecniche pittoriche e raffigurative di varia natura, dalla pittura su maglietta alla realizzazione di elaborati in feltro fino alla tecnica della cera su tela. Attraverso l'arte i bambini potranno incrementare la consapevolezza di sé, migliorare le proprie abilità cognitive e certamente godere del piacere legato alla creatività artistica. Secondo le previsioni la vendemmia 2018 dovrebbe dare risultati eccellenti rispetto al 2017 anno segnato dalla siccità. L'Italia si conferma il primo produttore al mondo di vino e resta sul trono anche quest'anno grazie ad una buona vendemmia che permetterà al settore vitivinicolo nazionale di riprendersi dopo un anno difficile. La produzione lungo tutto lo stivale è stimata in 49 milioni di ettolitri. Questo quanto emerge dalle previsioni del 2018 presentate al Ministero dall'Osservatorio del Vino di Ismea e dall'Unione Italiana Vini. Il Vigneto Italia prevede di mettere a segno una crescita produttiva rilevante che delinea un quadro nel complesso positivo seppur con qualche criticità in particolare al sud. Grande attesa c'è anche nel senese per le produzioni di Nobile, Brunello, Chianti Classico tre denominazioni famose in tutto il mondo che fanno di solito segnare un segno positivo all'export della provincia di Siena e tengono alto il nome di un territorio a vocazione agricola. Passiamo allo sport. La Robur oggi pomeriggio la squadra bianconera si è allenata sul campo dell'acqua calda in vista dell'amichevole di domenica prossima a Terni contro la Ternana. Il nostro Giuseppe Ingrosso ha intervistato l'attaccante Ettore Gliozzi. Dopo il giorno di riposo a seguito dell'amichevole interna con l'Aquila Montevarchi la Robur è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio all'acqua calda dove lavorerà tutti i giorni fino a sabato con doppia seduta domani e allenamento con la Berretti il giovedì. Poi domenica a Terni in Umbria amichevole con la Ternana alle 20.30 un test finalmente probante per verificare il valore della rosa di Mignani che oggi ha accolto Alessandro Cesarini, il gioglio offensivo che Reggio Emilia i tifosi chiamavano il mago per via delle sue invenzioni e giocate in campo. Mercato che in realtà non è ancora chiuso del tutto dalla lista degli svincolati la Robur sta provando a convincere Nicola Belmonte, liberato dopo tre anni a Perugia. Potrebbe però arrivare anche una deroga se venerdì il CONI boccerà i provvedimenti della FIGC che ha avallato la BIA 19 squadre. In quel caso una delle tre società a festeggiare sarebbe la Robur. Inutile però spingersi avanti ora che mancano pochi giorni. Intanto dopo la partita col Montevarchi si è presentato ai giornalisti l'attaccante Ettore Gliozzi che ha parlato del suo infortunio e del suo obiettivo, ripetere l'esperienza al Suttirol quando per due anni andò in doppia cifra. Io purtroppo vengo da due... sono fatto male alla spalla ad aprile, quindi era da due mesi che ero fermo, due mesi e mezzo. Quindi sto facendo un po' più di fatica a trovare la condizione ottimale magari rispetto agli altri ragazzi. Però già oggi mi sentivo abbastanza meglio rispetto alla scorsa partita. E sì, piano piano spero di arrivare all'inizio del campionato in una condizione 70-80% per poter dare il mio contributo. Questa era l'ultima notizia per questa sera. Dopo di noi il meteo. Arrivederci. Una buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lama. La mappa delle pressioni al solo previste per la giornata di domani, mercoledì 5 settembre. Vedono l'estensione dell'anticiclone delle Azzore verso il Mediterraneo o centro-occidentale che farà sentire i suoi benefici influssi anche sulla nostra regione. Lo vediamo infatti in questo pannello. Alla mattina prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso salvo la modesta formazione di isolati, banchi di nebbia o nubi basse nelle vallate dell'interno. Temperature stazionari o in leggera diminuzione. Alla pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente soprattutto sulle zone appenniniche dove non si possono escludere dei brevi isolati piovaschi. Le temperature nei valori massimi per domani in aumento fino a circa 28-30 gradi nelle zone dell'interno su valori di poco superiori rispetto alle medie del periodo. La giornata successiva di giovedì, ancora prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, aumentano le nubi nel corso del pomeriggio gradualmente a partire dalla costa per poi interessare anche le zone appenniniche, possibile qualche breve, generalmente debole pioggia in serata sulle zone di nord-ovest e quelle costiere. Temperature senza variazioni di rilievo, con questo concluso, grazie dell'attenzione.